salve a tutti d'arpavi guardate cosa vi faccio vedere la macchina dell'italia a quattro zampe se poi in realtà è la macchina d'arpavi che poi è diventata anche dell'italia a quattro zampe ma io volevo aprire il cofano per farvi vedere che cosa c'è proprio all'interno della nostra macchina eccola qui la macchinetta qualcuno ogni tanto quando ci vede in giro dice questi sono pazzi ma guarda quanti cagnolini quanti cattini c'hanno poi leggono sopra e capiscono che invece la macchina dell'italia a quattro zampe e che abbiamo dentro la macchina tutte le cosine che possono servire per i randaggini per quelli che abbiamo al nostro rifugio per quelli che troveremo tutte le cosine necessarie proprio per loro allora scatolette dei gatti scatolette dei cani crocchette gatti crocchette cani cani piccoli cani grossi di tutte le specie sono queste le cosine che ci servono dateci una mano perché questo cofano riusciamo a riempirlo grazie al vostro aiuto quindi se voi ci date una mano noi riusciamo anche ad aiutare i piccolini pelosetti che si incontrano con sto sole insieme da una mazza comunque tutte queste sono le cose che ci servono ogni giorno per la nostra associazione è un periodo particolare donazioni non arrivano se qualcuno avesse il cuore di regalarci qualche cosina lo può fare ci può contattare attraverso il nostro numero telefonico whatsapp che trovate un po da tutte le parti italia quattro zampe hollus anzi a richiudiamo tutto quanto qui se no pia pure troppo sole italia quattro zampe hollus come sempre grazie a voi la voce di tanti pelosetti del mondo il nostro paese di tanti pelosetti del mondo